Dal 29 ottobre, ogni domenica e lunedì, il Centro Quotidiano d'Abruzzo e Tutto Sport insieme in Edicola ha soli 1,50€. In Edicola, un'altra grande iniziativa editoriale del Centro. Ogni domenica e lunedì, il Centro Quotidiano d'Abruzzo e Tutto Sport insieme in Edicola ha soli 1,50€. In Edicola, un'altra grande iniziativa editoriale del Centro. Edicola, un'altra grande iniziativa editoriale del Centro.